La Procura della Repubblica di Vasto ha indagato nove persone, tre ex amministratori del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, tecnici e il titolare di una ditta campana nell'ambito dell'inchiesta sul completamento dei lavori della diga di Chiauci, destinata ad alimentare d'acqua il Vastese e parte del Molise. Le accuse formulate dal procuratore Giampiero Di Florio nell'avviso di conclusione delle indagini vanno dagli ingiusti vantaggi patrimoniali per alcuni studi tecnici al concorso continuato in abuso d'ufficio. I fatti si riferiscono all'attività del Consorzio tra il 2012 e il 2016. Tra gli indagati l'ex presidente Fabrizio Marchetti, l'ex direttore Nicolino Sciartilli, gli ex commissari Rodolfo Mastrangelo e Sandro Annibali, gli altri indagati sono Michelangelo Magnacca, Sante di Giuseppe, Giovanni Sportelli, Gilda Buda e Giuseppe Latte Bovio. Tutti ora hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o presentare le loro memorie difensive. Nella comunicazione di chiusura delle indagini si parla di ingiusti vantaggi patrimoniali in favore di alcuni studi tecnici e conseguente danno al Consorzio. La Procura afferma che l'abuso si è concretizzato facendo ricorso a un sistematico e fraudolento frazionamento nel tempo e nell'importo stimato dalle convenzioni per gli incarichi, oltretutto senza l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice degli Appalti. Tra le ditte che avrebbero illecitamente usufruito dei vantaggi uno studio di ingegneri associati per oltre 300.000 euro, una ditta di casoria per circa 180.000 euro, vari tecnici per prestazioni dilatate in 5 anni per complessivi 400.000 euro, mentre all'ex presidente Marchetti viene contestato il fatto di essersi appropriato di oltre 7.000 euro, addebitati sul conto di tesoreria a lui intestato o ricevuti direttamente a titolo di indennità e rimborso spese a fini istituzionali del Consorzio.